Il dottore Gidio Di Spigna, già primario di radiologia dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, è il nuovo presidente del Rotary Club della Spezia. Subentra a Roberto Querci e il passaggio di consegne, chiamiamolo così, c'è stato la settimana scorsa a Portolotti. Il cambio di consegne è stato anche l'occasione per il nuovo presidente per illustrare ai soci e soprattutto anche alla città i programmi che svolgerà in questo anno di presidenza. Ce ne vuol parlare, dottor Di Spigna? Volentieri. Quest'anno, dal punto di vista dell'impegno internazionale del Rotary Club, è incentrato su due punti, la salvaguardia del territorio e il green, cioè la difesa delle zone verdi. A questo proposito abbiamo già in essere alcuni progetti, il primo dei quali in collaborazione con il Comune della Spezia, per eseguire, per mettere a dimora una serie di piante, di alberelli, che costituiranno poi un boschetto e dovremo solo scegliere la location, la localizzazione, che sarà o vicino alle mura della città, che sono oggetto di ristrutturazione in questo periodo, oppure nel nuovo progetto che riguarda il Parco della Rimembranza. Oltre a questo, naturalmente, ci sono altri service in favore della città, in favore delle frazioni della città, in particolare il primo che faremo, spero che sarà a favore del paese di Cadimare, e successivamente avremo anche in progetto di eseguire dei service che tengano conto delle frange più marginali dei cittadini, dei meno abbienti, dei meno fortunati, per cercare di fornire un sostentamento nelle necessità più impegnative. Rottoli è stato molto presente in questi anni della pandemia, proprio a sostegno delle fasce più deboli, attraverso donazioni all'ospedale, ma soprattutto anche medicinali, presso le farmacie, per le persone che hanno bisogno. Sì, sì, e questo della fornitura di farmaci gratuitamente a chi ne avrà bisogno, continuerà anche quest'anno, sì, sì, senz'altro. Ecco, Presidente, lei ha parlato di iniziative per le località, diciamo, marginali, per le frazioni, chiamiamo così. Perché questa iniziativa verso le frazioni? Cos'è cambiato? C'è un progetto del Comune della Spezia che consiste nel valorizzare dal punto di vista turistico un itinerario che partendo da una certa postazione di cui ora non sto a parlare e con varie tappe e varie località coinvolte terminerà poi nell'ultima frazione del Comune e cioè a Cadimare. E' proprio per questo che abbiamo scelto Cadimare come punto di riferimento per un nostro primo intervento. Un programma importante e non resta che dire buon lavoro. Speriamo, la ringrazio, speriamo bene che sarà un buon lavoro.